sarà un tentativo di fornire una serie di idee attraverso le slide alcune anche fotografie filmati da utilizzare in classe e la prima verifica di questo lo avete dalla prima delle slide perché è una slide che voi avete già letto è una slide e ne abbiamo commentata la volta scorsa però qui mi si è cancellato tutto ecco perché è un l'idea di base non solo della poesia ermetica ma un po' è la questione fondamentale che riguarda Pasolini cioè la sua scelta per prima il fiulano e come la scelta del fiulano lo ha portato come dice lui in questo passo che abbiamo già commentato appunto dal dal massimo dell'oscurità alla all' espressionismo cioè usare la l'espressionismo come rappresentazione della realtà attraverso il fiulano dice di aver capito il mondo contadino quando dal seguito al primo dei suoi eh primo scandalo che lo coinvolse deve abbandonare eh il fiuli e viene a Roma trasferisce questa idea del dell'elemento oggettivo realistico del mondo contadino lo trasferisce eh nella città e negli emarginati della città in cui ritorna la scelta della eh appunto dell'espressionismo però non più affidata al dialetto fiulano che aveva mh utilizzato per la lirica e le liriche di Pasolini in fiulano rimangono fra le cose sue più belle e non solo sue ma eh lo trasferisce anche sulla prosa e a quel punto sempre attraverso probabilmente Contini che era stato eh eh colui il critico che eh gli aveva eh stavo per dire spiegato gli aveva eh sì diciamo spiegato la differenza fra il monolinguismo di Petrarca e il plurilinguismo dantesco e quindi la forza della eh delle delle dell'espressività e dell'espressionismo arriva a Gadda un altro dei grandi autori di Contini no? Eh e qui scopre eh Pasolini anche scopre Gadda il pastisci gaddiano Gadda come eh anche egli frequentatore di un espressionismo ambientato a Roma nel dialetto eh romanesco ma soprattutto Gadda che differentemente da lui si vale dell'espressionismo per eh rappresentare la crisi dice Pasolini vedete queste eh queste parti eh messe in grassetto la crisi della nostra epoca ossia della grande borghesia che di quei miti è stata produttrice eh la crisi della nostra epoca dal punto di vista letteraria è la crisi di tutti i miti che avevano formato la grande letteratura europea. Eh quindi vedete come eh ciò che dicevamo l'altra volta rispetto al a Pasolini anche come in un certo senso anche poeta della crisi ma questo si si può declinare in molti modi in Gadda non c'è più fede in nulla se non un superstite attaccamento a una indifferenziata e pur sempre operante passione dell'individuo mh in in Pasolini e e in Gadda diventa anche un'angoscia prorompente eh che peraltro Pasolini interpreta come angoscia sociale non solo dell'individuo ingegner Gadda ma come angoscia che rappresenta appunto una crisi collettiva e e e però vedete la differenza fra sé e Gadda in cosa viene stabilito nel quello che dice nell'ultima riga la la sua funzione quella di Gadda dell'espressionismo gardiano non è critica il suo realismo non può essere prospettivistico quindi come dire il mio realismo prospettivistico è un realismo che ha delle prospettive che vede le cose in prospettiva e che non si limita a rappresentare l'angoscia e le tortuosità eh del singolo nei suoi rapporti con la famiglia e con la con la società cioè come dire che Gadda non riesce a a proiettare la la crisi che egli ha vissuto nella sua famiglia nella sua epoca su un piano più generale mentre Pasolini ritiene di averlo potuto fare ora questo ci pone immediatamente eh a dover ragionare su eh su Pasolini narratore su come Pasolini a questo punto incontrato l'espressionismo gaddiano che è un espressionismo non lirico non poetico ma eh narrativo a metà degli anni e cinquanta eh Pasolini eh Pasolini sforna eh una serie di romanzi che lo rendono celeberrimo era già celebre ma in in un cerchio relativamente ristretto eh arrivato a Roma fa mille lavori e e soprattutto lavora per i giornali lavora per riviste eccetera con il mondo stabilisce una serie di rapporti con il mondo culturale romano ma il momento in cui esplode la la sua fama è quando pubblica i romanzi di cui ci parlerà la professoressa Mastro Donato. Grazie grazie professore buonasera a tutti. Ecco qui. Grazie. Lo strumento. Lo strumento di potere direbbe. Vedete che è una lezione collegiale fra l'altro che si vale di due professoresse eh che di didattica eh a scuola ne sanno molto. Prego. Grazie. Eh da ragazzi di vita la mortaccia eh sono in realtà i due poli di un arco temporale eh durante il quale accadono molte cose. Eh la prima cosa che 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 mi sentirei di dire è appunto che lo sperimentalismo di Pasolini cala questa angoscia sociale di cui eh il professor Antonelli ha parlato poco fa riguardo a Gadda la cala in un ambiente sociale in una comunità eh questa è già una grandissima differenza che 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 appunto che allontana questi due grandi scrittori e nel calare questa angoscia sociale in una ehm in una realtà vera e propria condivisa da da Righetti che sono per l'appunto i protagonisti di ragazzi di vita ecco nel fare questa operazione Pasolini ehm fa tesoro eh fino in fondo della lezione dantesca perché perché è Dante il modello di un inferno sulla terra eh per quanto riguarda ragazzi di vita ma un inferno preso nella sua diciamo così nella sua freschezza nella sua autenticità che però è intrisa di dolore ecco questa è un po' la eh il punto di partenza ragazzi di vita è il primo romanzo eh di Pasolini ed è anche il romanzo scandaloso e e io sono qui proprio per ehm tratteggiare la ehm la caduta che da un punto di vista psicologico ed emotivo ha rappresentato l'accoglienza di ragazzi di vita eh non presso i lettori che l'hanno molto apprezzato naturalmente eh ma attraverso diciamo l'accoglienza che questo romanzo ha ricevuto ehm presso la critica intellettuale no? Eh diciamo così dotta e organica diciamo pure eh alla sinistra del partito comunista eh l'accoglienza di ragazzi di vita fu talmente traumatica eh per Pasolini che il eh la dedica al romanzo successivo che è stato poi una vita violenta pubblicato nel nel cinquantanove come vedete eh è una dedica rivolta a Carlo Bo e Giuseppe Ungaretti che furono testimoni nel processo contro ragazzi di vita intentato a ragazzi di vita nella stessa estate dell'uscita dalla presidenza niente di meno che dalla presidenza del consiglio o meglio dal dipartimento eh diciamo che si occupava di cose culturali e della politica culturale italiana eh che faceva capo alla presidenza del consiglio. Non era il partito comunista nel cinquantacinque. Non era il partito comunista ma parallelamente direi nello stesso negli stessi mesi proprio a luglio del 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 cinquantacinque eh esplose sia la denuncia eh per oscenità e sia anche molti diversi articoli che furono una stroncatura in particolare in particolare salinari insomma diversi diversi intellettuali. Eh qui io ho riportato perché è interessante per i ragazzi anche contestualizzare da un punto di vista proprio della eh della ricezione no? Altrimenti non si rendono conto che che tipo di bomba eh rappresentò ragazzi di vita nel panorama culturale italiano. Allora ehm oltre naturalmente alla ehm alla denuncia da parte della presidenza del consiglio inizia il processo e al processo vengono chiamati ehm Pasolini prega Ungaretti eh che era già naturalmente famoso il professore che conosciamo ehm prega Ungaretti di di fare qualcosa di scrivere una lettera infatti Ungaretti scriverà una lettera defensoria che verrà poi acquisita agli atti e Ungaretti dirà ehm Ragazzi di vita è uno dei migliori libri di prosa narrativa apparsi in Italia. Cioè come ci come si può pensare ad un'accusa di oscenità? Eh le parole messe in bocca a quei ragazzi perché sono appunto le parole messe in bocca a quei ragazzi cioè il dialetto romanesco, l'operazione stilistica che Pasolini fa è questo l'oggetto dello scandalo eh? Parolacce anche. Le parolacce e non solo le parolacce come vedremo no? Adesso più tardi tra qualche minuto vedremo anche degli esempi testuali. Non è solo il turpiloquio pasoliniano che offende. È l'operazione stilistica ibrida di ibridazione del gergo basso ibridato con una lingua media e addirittura intarsiata a volte con delle con delle volate in alto verso un italiano illustre eh? È dotto quasi. Questa cosa alla sinistra non è piaciuta affatto eh? Eh è l'oggetto dello scandalo è proprio questa operazione stilistica di ibridazione. Cioè distinguiamo fra lo scandalo giudiziario. Sì sono due cose distinte. Certo certo io adesso mi sto eh mi sto riferendo a coloro i quali ai quali Pasolini si è rivolto per un aiuto durante eh durante il processo che ricordo è finito con una soluzione con formula piena eh eh e con e con grandi elogi da parte del del consiglio giudicante, dal presidente eccetera. Carlo Bo che a quel tempo era rettore dell'Università di Urbino intellettuale cattolico entrambi questi due intellettuali sono intellettuali cattolici che rivalutano eh eh ragazzi di vita paradossalmente direi eh Pasolini si aspettava più un appoggio diciamo dai suoi ehm diciamo dagli intellettuali che erano che sentiva più affini da un punto di vista ideologico in quanto marxisti. Ragazzi di vita ha un grande valore religioso addirittura dice Carlo Bo perché spinge alla pietà verso i poveri e i diseredati e ancora una sottolineatura sul dialetto i dialoghi perché il problema sono i dialoghi sono dialoghi di ragazzi quali non si esprimono bene e l'autore ha sentito la necessità di rappresentarli così come in realtà. Ora questa è una curiosità eh quasi uno sfizio ho voluto ho voluto riportare. È una piccola scoperta che. Ma scoperta relativamente con i ragazzi spesso in classe facciamo scoperte che in realtà sono scoperto dell'acqua calda perché è sui siti no? È pubblico però eh ecco magari insomma non 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 viene spontaneo andare a cercare le cose no? Ecco e invece la sentenza dice eh elogia no? Questo è un presidente del tribunale di Milano il presidente Maramotti che si che non solo dimostra di apprezzare da un punto di vista stilistico i ragazzi di vita no? Ma eh ecco si spinge più avanti addirittura con una sorta di eh pacca sulla spalla no? Eh ma in maniera protettiva forse è un errore apostrofare la C davanti alla A per esempio senza che loro ci avessero perché la C nonostante che la C perda il suono duro eh mi piacerebbe avere un giudice che anche oggi fosse in grado di fare questo genere di annotazioni però vedete il gergo è il problema eh il gergo è il problema perché perché è un problema ideologico eh è un è è il fulcro nevralgico dell'operazione pasoliniana ed è anche ovviamente l'obiettivo polemico di coloro i quali non accettano la sua la sua carica eversiva. Il gergo infatti il presidente il giudice si si eh si pronuncia anche sul gergo il gergo posto sulla bocca dei giovani protagonisti la persistenza di esso nelle parti descrittive non dialogate eh perché non sono il gergo il dialetto romanesco non è solo sulla sulla bocca dei ragazzi eh ma è anche nel discorso indiretto libero che è eh che è che è utilizzato da Pasolini a cui Pasolini dedicherà un un importante saggio eh critico eh che pubblicherà poi in Empilismo eretico nella sua raccolta di saggi più più tardi quasi a voler significare un ideale continuazione del colloquio o a rappresentare quanto più fedelmente possibile una meditazione o un monologo no eh questo è un giudice dotto direi no perché ha esattamente colto il senso del del discorso indiretto libero e la carica eversiva del dialetto e non senza dire che il Pasolini ha saputo dettare pagine di autentico lirismo ha colto anche questo cioè ha colto l'operazione di ibridazione che Pasolini ha fatto tra gergo e parlata parlata adotta dunque io per il momento vi eh diciamo vi mi accomiato da voi semplicemente facendo facendo appunto sottolineando queste parole chiave che sono il pasticcio definito tale dai detrattori ma in realtà è un ehm un laboratorio no in cui ehm Pasolini ibrida diversi elementi con una precisa intenzionalità stilistica da dove arriva questa operazione a così che sembra assurda questa vera e propria confusione degli stili che eh che che fonda insieme l'origine colta del linguaggio ecco questo eh questo lo lo lascio al mio a chi seguirà dopo di me vedete è un esperimento un po' che forse si può riportare anche in classe invece di avere tre tre professori potreste avere due studenti che dialogano con voi eh dopo aver lavorato ovviamente un pochino su queste cose ora questa eh quella il problema della confusione degli stili e di quello che rappresenta ehm come mimesi della realtà eh eh qualcosa che eh Pasolini pratica con assoluta lucidità e coscienza tanto che diventa anche eh l'interpretazione critica del romanzo contemporaneo per cui tutto il romanzo contemporaneo compreso il grande Calvino compreso Bassani eh viene eh eh rappresentato come qualcosa che si distacca da quello che sarebbe necessario da quello che pratica lui perché viene tutto attribuito a una realtà borghese mentre quello che fa lui come abbiamo visto già nelle prime slide e in quello in fin dei conti anche che hanno detto i suoi difensori no? È una rappresentazione a diretta eh impresa diretta sulla realtà una rappresentazione che eh denuncia lo stato delle cose ma qui c'è una cosa in più leggiamolo un attimo insieme vedete che fa parte di un un brano in cui c'è una critica a tutta la a tutto il romanzo italiano compreso il neuralismo badate bene fino a Calvino mettere l'accento su una specie di stile medio creaturale al limite basso mhm prospettivistico notate il il termine creaturale la data del 1957 questo è il momento in cui Pasolini prende coscienza critica di questo fenomeno perché nel cinquantasei esce la traduzione italiana di eh del libro di Auerbach mimesi eh il realismo nella letteratura occidentale e forse anche questo titolo sbagliato che dà la la traduzione italiana perché il titolo tedesco in realtà dice tradotto in italiano fedelmente dice la rappresentazione della realtà eh nella letteratura occidentale che è cosa diversa da il realismo nella letteratura occidentale ma probabilmente in Audi scelse il realismo perché voleva che eh farlo entrare in contatto con tutto il dibattito che era anche di quegli anni sul realismo il neorealismo eccetera ma la rappresentazione della realtà è una cosa diversa perché per Auerbach era il momento è il momento in cui entrando il cristianesimo come eh cultura eh fondamentale della eh tarda antichità rompe il sistema degli stili classico cioè non c'è più uno stile eh basso medio e alto che vengono utilizzati in relazione all'importanza dell'argomento come aveva teorizzato per esempio Cicerone ma i tre stili possono essere usati indifferentemente quindi in un certo senso confusi perché scopo del cristiano è la salvezza del eh degli esseri umani dei fedeli e allora dice Agostino omnia quedicimus magna sunt tutte le cose che noi diciamo sono grandi quindi noi possiamo usare indifferentemente anzi dobbiamo usare lo stile in relazione non all'argomento ma allo scopo che ci prefiggiamo allora se è uno scopo didattico per esempio si usirà lo stile medio se uno sto se uno se uno scopo in cui bisogna muovere commuovere gli animi e muoverli a all'azione a fare qualche cosa a favore degli altri allora useremo lo stile e questo è lo stile che egli definisce creaturale al limite basso eh di Pasolini nel 56 esce il volume Pasolini lo legge eh rimane colpito da queste eh affermazioni di Auroac per di più c'è un'introduzione che una specie di modello per questo tipo di lavoro di Roncaglia che anche egli filologo romanzo amico allievo e amico di Contini e amico di Pasolini e eh è un realismo tipico delle transizioni con cui si opera di scrivere l'insieme concreto e materiale dei fenomeni o mettere piuttosto l'accento come parrebbe più conseguente sulla divisione interno che separando il mondo politico sociale in due parti viene a separare o almeno incrinare qui c'è un errore di battuta vedete ogni particolare di quel mondo ogni suo fenomeno vedete siamo di nuovo in quel in quell'affermazione che abbiamo visto l'altra volta che ogni volta che di Contini che ogni volta che il linguaggio di un'opera letteraria esce dallo stile medio normale e e e e accento all'elemento espressivo vuol dire che sta rappresentando una crisi la stessa cosa che dice lui ma per una qualsiasi sintesi siamo troppo immersi in questo in questo farsi della storia si ritiene anche egli inadeguato a rappresentare quello che sta avvenendo venendo c'è possibile pensare meglio che contemplare pensare in un incalzante susseguirsi che di decisioni due doppi di pure qui c'è un errore di decisioni pratiche non partiche non c'entrano i parti eh pratiche di scelte assidistiche al di là della divisione ci sarà un'anima del tempo attenzione qual è l'anima del tempo se non altro appunto nel dramma nel dolore della divisione da attingere della divisione sociale da attingere attraverso una grande intransigenza interiore o una grande pietà verso il mondo esterno la pietà verso il mondo esterno e la pietà del cristiano per gli altri solo che per Pasolini è una pietà laica non è una pietà che deve eh arrivare come nella tradizione cristiana in a in a cominciare da Agostino che è il grande pilastro di tutta la tradizione culturale eh cristiana eh alla conversione ma deve arrivare alla comprensione ed ecco che eh e notate che questo è esattamente quello che nelle ibrani che vi ha citato la professoressa Mastro Donato dicono dicono eh boh e Ungaretti no? ravvisano questo eh questo elemento che per loro è un elemento giustamente dal loro punto di vista eh propriamente cattolico soltanto che Pasolini lo applica laicamente e questa pietà verso il mondo esterno è quella che poi a un certo punto nel cinquantasette stesso viene a costituire una in questo continuo eh rovello e interrogazione che Pasolini fa di se stesso e della propria posizione rispetto agli altri vi ha ricordato la professoressa Mastro Donato le ehm eh furibonde battaglie e gli assalti che furono fatti a quei due romanzi e anche alle posizioni ideologiche di Pasolini dalla critica che a lui teoricamente più vicina ma che non era così perché il punto di riferimento di Pasolini non era la classe operaia con tutto quello che significava ma era il 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 sottoproletariato questo appare non solo in Salinari ma anche in un libro di Asorrosa che eh che colpì molto Pasolini eh lui arrivò a dichiarare che gli aveva fatto più danni quel libro scrittori e popolo in cui di tutti gli altri perché Pasolini veniva indicato come un populista eh cosa che in un certo senso se noi eh non gli diamo un valore spregiativo ma se rimaniamo all'interno di quello che Pasolini pensava è abbastanza vicino al vero come erano vicino al vero anche le critiche di Salinari soltanto che per Salinari erano critiche tutte negative eh mentre in realtà costituivano l'elemento possiamo dirlo in una proiezione eh da un punto di vista prospettivistico alla rovescia retrospettivo erano l'elemento che contraddistinto e ha fatto grande Pasolini eh con tutte le riserve che i lettori hanno ancora oggi e le difficoltà che hanno ancora oggi sia per i romanzi sia soprattutto per i film ha fatto grande Pasolini nell'immaginario letterario non solo italiano ma europeo ed ecco che lo scandalo del contraddirsi cioè Pasolini si interroga e scopre che egli è alla fine è un intellettuale e che l' atteggiamento eh che ha verso questa realtà esterna è di pietà verso l'esterno e allora dirà che essere con te e contro di te cioè il il mondo proletario nel cuore in luce contro te nelle buie viscere io ero attratto da una vita proletaria a te anteriore era per me la eh religione la sua allegria non la millenaria sua lotta cioè io non sono un politico non mi interessa quello che mi interessa è la la vita proletaria a te anteriore l'allegria eh la sua natura non la sua coscienza e badate dire coscienza a questa altezza cronologica si significa dire non la sua coscienza di classe non non il fatto che siano operai a me mi interessano queste caratteristiche che poi spiega ehm detta dettagliatamente nelle strofe successive ma queste le abbiamo già esaminato l'altra volta e non mi ci soffermo e allora passiamo alla chiusura di questo ciclo romanzesco con una vita violenta che è del cinquantanove grazie eh sì ehm laico eh la la pietà eh lo sguardo pietoso nei confronti del mondo reale ehm di origine religiosa sì e e laica è la versione pasoliniana eh però è una laicità sacra che sacralizza le cose eh cioè non abbiamo la religione in in Pasolini ma abbiamo la sacralità la sacralità del creato eh la la sacralità delle creature della vita in tutte le sue manifestazioni di la vita in tutte le sue manifestazioni no? Eh un'espressione che Pasolini mutua da longhi che era stato il suo maestro insomma ai tempi universitari è questa adorazione fenomenica no? Lui si Pasolini si poneva rispetto alla realtà da tutte le creature del creato con questo con lo stesso stupore con cui ci poniamo di fronte ad un'apparizione sacra eh quindi eh è questo che fa di di eh di Pasolini di Pasolini un un poeta ehm questo mondo esterno guardato con la eh con la pietas del poeta che ama eh ama le creature è un po' eh il fulcro diciamo di questa operazione stilistica di cui abbiamo parlato di cui ho parlato poco fa e che ricordo è una ibridazione tra gergo di romanesco no? Eh del dialetto ehm ehm il fatto dall'interno direi no? Anche da parole che invece dialettali non sono gergali non sono ma sono di una magnifico magnifico registro medio che è il più difficile da 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 costruire no? il registro virgiliano per esempio Neopardi diceva che Virgilio era il vero maestro no? Della della dell'aura mediocritas ecco allora ehm io vi presento alcuni stralci da una vita violenta eh ogni pagina potrebbe essere presa eh da da sia da ragazzi di vita che da una vita violenta ogni pagina potrebbe essere presa testimone di questo lavorio che è un rovello Pasolini diceva che costruire questo linguaggio ricco dei diversi registri plurilinguisti eh plurilinguistici era un lavoro che lo sfiniva era un lavoro che prosciugava le sue forze no? Era veramente un'operazione intellettuale ehm e intellettiva direbbe Dante no? E dunque eh ho segnato in eh in giallo eh le espressioni provenienti dal basso no? provenienti dal basso senza dare a questo termine eh una una connotazione negativa dal basso nel senso di umile cioè che proviene dall'humus dalla 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 parte diciamo così ehm nascente della vita eh sì anche anche terragna e a e poi ho invece indicato come azzurre forse perché l'azzurro è il colore del cielo sì forse sì invece le espressioni che eh che che illuminano dall'interno con una eh con un registro linguistico dotto dotto senza essere togato direbbe il mio maestro Luca Serianni ehm dotto senza essere appunto ufficiale no? Ehm è un pulizio siamo siamo in un momento in cui le donne si ribellano perché sono arrivate le forze dell'ordine a per portare in carcere un ragazzo uno di questi ragazzi più o meno malviventi di borgata e eh il ragazzo riesce a fuggire perché le donne organizzano una sorta di rivolta e un poliziotto uscito con l'accuso strillò fermi o vesparamo non l'avesse mai detto non l'avesse mai detto è è già discorso indiretto libero eh siamo fuori dalle virgolette tutte le donne si gettarono in massa a calci a morsichi li spingevano per dietro ai fianchi due o tre volte quelli cascarono a terra in ginocchio lunghi con le donne intorno che li pestavano gli sputavano addosso e allora loro si misero a correre svincolandosi e pedalando eh pedalare è una tipica espressione che i romani utilizzano eh gli unici al mondo credo in assenza di bicicletta pedalando sempre più in fretta da dietro le donne gli tiravano serci mattoni pezzi di legni ce n'era una che per la strada con la creatura in braccio la creatura ovviamente eh il bimbo il bebè accanto ad una cofana dove aveva acceso un focaraccio dagli fuoco a crocefì le urlarono le donne senza farselo dire un'altra volta crocefissa mise giù la creatura e cominciò a tirare poliziotti dei tizzoni accesi poi non contenta chiappò faccio notare che a chiappò viene etimologicamente da chiappa quindi a chiappò con due mani tutta la cofana piena di cinice cinice accesa la cinice eh questa questa polvere però rovente che scoppiettava e la gettò proprio sulle fette delle guardie che non sono ovviamente le fette biscottate ma sono i piedi delle guardie con tutto il focaraccio a terra che si spampano facendo un botto i nostri studenti sanno benissimo cosa significa la parola un botto con una vampata di cenere di fumo di scintille ecco vedete c'è un'alternanza anche direi equilibrata no? Equilibratissima nonostante la presenza di queste forme gergali però non c'è volgarità cioè non abbiamo nessuna forma di scadimento nello sceno o nella volgarità perché perché il lavorio il rovello è eh che che sfinisce che logora che prosciuga sta proprio nella creazione di questa di questa armonia si alternano alle ai paragrafi eh densi no? Punteggiati di espressioni gergali si alternano ce ne sono tantissime nel nel nella vita violenta ehm i tramonti e le albe ecco in questo Pasolini veramente fa tesoro della lezione dantesca Dante è un maestro di albe no? Di albe e di tramonti naturalmente nel purgatorio non nell'inferno e non nel paradiso però ecco nel purgatorio le albe più belle forse della letteratura italiana sono 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 state ci sono state lasciate in dono si accendevano le luci e brillavano nel fango unire insieme il verbo brillare con il fango è è è questa operazione con la luce del tramonto che si specchiava specialmente in un gran pantano eh lo specchio del tra la luce del tramonto la luce crepuscolare che si specchia in un pantano lì presso la fermata dell'auto l'auto non è l'automobile ma è l'auto l'autobus come si dice a Roma aspetto l'auto eh dove la sora Anita aveva il suo banchetto era già proprio scuro e la luce che ancora si impolmonava ecco si impolmonava è un neologismo come Dante Pasolini si pone anche il problema di creare parole che possano arrivare al fondo della realtà delle sue creature no delle creature che ama e che per questo vuole descrivere sotto il monte era color viola venne la sera quelle belle sere di piena estate qui sembra ci troviamo no veramente in una situazione dantesca che il buio non scende mai e se sorte la luna perché sorte chiaramente è una diciamo così una forma una morfologia gergale ma elegante come si fa a parlare a usare il gergo romanesco con eleganza eh Pasolini lo fa sta lassù vicina e calda pure lei inutile perché la luce sua non serve ma bella uguale vi faccio notare che se sorte la luna sta lassù vicina e calda pure lei vicina e calda sono due predicativi inutile un altro predicativo perché la luce sua non serve ma bella uguale bella fa riferimento alla bellezza ideale uguale è una è un aggettivo che però sta lì al posto dell'avverbio fosse stato italiano avrebbe dovuto scrivere ugualmente bella ma a me piace di più bella uguale eh poi abbiamo l'ultima scena l'ultimo testo che vi propongo proprio per fare per far cadere i ragazzi in questo in questo stridore in questo iato che c'è tra tra il il gergo eh vitale diciamo così e la bellezza che ci regala la letteratura ehm di alluvio c'è una grande alluvione e una un'alluvione nella quale il nostro protagonista Tommaso si fa eroe perché salva una donna che poi è una prostituta e la salva e la porta in salvo e mh e gli alluvionati potete immaginare in che condizioni viste tra l'altro la cronaca recente si rifugiano nella sezione del partito comunista ehm piano piano arrivarono a pietralata con la pioggia a vento che si scatenava portarono quelli delle baracca alla sede del partito mezza allagata pure questa la gente ci capeva appena qui ho fatto il contrario ho messo ero stanca di mettere il cielo nel nella parte colta e ho deciso che il gergo poteva ambire al cielo eh ci capeva appena seduta sulle panche le donne con le creature in braccio tutti piangevano si disperavano mentre di fuori si sentivano sempre più forti gli sgrulloni di pioggia e di tuoni che è la fine del mondo mondo pensò Tommaso guardando la scena che si parava dentro al partito uno stava a sedere su un materasso rintorcinato con un ragazzino sui ginocchi uno che strizzava i pedalini su uno sgabello asciugandosi i piedi una donna che stava male e piangeva e come lei tante altre ridotte in nude come vermi tre o quattro ragazzini un po' più grandi avevano pizzicato la bandiera la bandiera rossa del partito ci si trastullavano giocando agli indiani ah ragazzini martacci vostra ridò Tommaso vedendoli andò lì e gli tolse la bandiera riappoggiandola al posto suo nel cantone accanto alla scrivania ma che è stata a casa vostra gli gridò ancora infognato possa via tutti piangevano si sentivano sperzi assassinati solo in quel pannaccio rosso cioè la bandiera comunista tutto zuppo ingozzito che Tommaso ribottò lì a un cantone in mezzo a quella calca di disgraziati pareva brilluccicare ancora un po' di speranza. Questo testo è un testo nel quale intanto la bellezza e l'umanità profonda che lascia affiorare il gergo ha meritato diciamo l'evidenziatore azzurro ecco ma soprattutto abbiamo la funzione del partito ecco se c'è un elemento di novità in una vita violenta rispetto a ragazzi di vita che stilisticamente sono sovrapponibili no? L'operazione stilistica identica è proprio la entrata in scena del partito comunista che è vero come ha detto il professor Roberto Antonelli è vero che era distante no? Eh da un punto di vista proprio dell'approccio conoscitivo era distante da Pasolini però dobbiamo anche dire che Pasolini si è sempre sentito orfano rispetto al partito comunista eh è come un ragazzo che ha perso la mamma o con beh peggio ancora come un figlio che è stato abbandonato dalla madre no? Quindi le diversità restano ma resta anche la nostalgia di Pasolini per il partito non è un caso perché? Perché il partito comunista ha avuto una funzione importante nella vita di Pasolini che è la stessa funzione che ha nella vita di Tommaso cioè gli fa scoprire questo slancio ideale gli fa scoprire lo slancio della comunità lo tira fuori dalla torre d'avorio del del dialetto fruilano di poesia casarsa no? Che di un lirismo struggente meraviglioso ma sicuramente individuale eh Pasolini era fuori dalla coralità quando scriveva poesia casarsa e a Roma e e anche anche il partito è stato segretario della federazione del partito comunista del Pordenone no? Di Pordenone però è stato anche cacciato dal partito comunista per per i famosi atti osceni di di ramuscello quindi si sente orfano di questo partito comunista pur riconoscendo al partito questa questa questo ancora un po' di speranza che brilla dentro questa bandiera no? È una bandiera che viene rimessa accanto alla scrivania e questo pure è un senso allegorico importante la scrivania è il luogo dello studio è il luogo della meditazione è il luogo in cui approfondiamo i nostri ideali i nostri valori ehm questo ancora un po' di speranza è ehm è la è un' espressione che eh che non è casuale perché eh Pasolini la utilizza anche alla fine di una poesia meravigliosa che io leggo sempre ai miei studenti anche se non è molto famosa e fa parte della religione del mio tempo ed è una eh non è molto famosa perché lo stesso Pasolini l'ha intitolata appendice alla religione quindi uno dice appendice vabbè non è non è non è tutto importante invece no nel nel dulcis in fondo eh perché appendice alla religione tra parentesi una luce è una poesia dedicata a sua madre a Susanna Colussi ed è struggente perché racconta quando tornava di notte eh e sentiva la madre piangere dall'altra parte del muro eh per la morte del fratello e lui si si disperava e avrebbe voluto avrebbe voluto uccidersi dice no? La fine di questo di questa poesia è la seguente l'unico giudizio che ci avanza ed è tremendo e dolce che non c'è mai disperazione senza un po' di speranza eh questo questa espressione un po' di speranza eh Pasolini eh la mette come explicit come finale di una poesia dedicata all'unica donna che lui abbia mai amato in tutta la sua vita ed è la stessa espressione che attribuisce alla bandiera del partito comunista no? Secondo me non è casuale non è casuale perché il partito è visto anche è con un riconoscimento che Pasolini vuole dare al partito comunista no? Con una vita violenta un riconoscimento ehm per aver rappresentato una sorta di rifugio no? E di momento di crescita così come il partito di 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 rispetto a Tommaso e gli alluvionati eh rappresenta un rifugio materno per tutti i disperati una mano tesa una mano tesa a loro che naturalmente poi eh saranno delusi no? Perché perché poi il partito non riesce veramente ad essere presente come dovrebbe e come Pasolini ha sempre auspicato. Concludo dicendo solo questo che trasumanare e organizzare la poesia che dà ehm il titolo all'ultima raccolta nasce come come disperazione anzi parla proprio di questo di una domanda che Pasolini fa ed è la seguente eh la domanda che Pasolini porge ad un funzionario di partito e la domanda è la seguente perché dovrei iscrivermi al partito comunista? Quindi alla fine della sua parabola poetica vedete che questo di questo dialogo no? Questo dialogo disperato con il partito resiste fino fino in fondo no? E non si risolve ma Pasolini non era uno che risolveva era uno che soffriva eh grazie finisco qui. Bene grazie eh come avrete visto stiamo facendo una tour de force in cui vi diamo tutta una serie di elementi che poi speriamo che possiate sviluppare voi nei laboratori e anche con le domande perché per chi ci segue da lontano vorrei dire che siccome c'è molto dispiaciuto non aver potuto fare le domande nella prima alla fine della prima lezione e neppure oggi perché ci sono i laboratori che sono il tratto caratteristico della fondazione però abbiamo dedicheremo una giornata intera alle domande e il non mi ricordo il giorno il 19 dicembre eh per chi è qui e per chi non è qui adesso vediamo un po' cosa succede a questo punto dopo dopo il una sorpresa pure per me ma non è una sorpresa perché adesso tocca anch'io no tu devi ah vabbè ma questo io l'ho già detto l'altra volta vi ricordate questa era la la ero frettoloso a dare la parola a Fabrizia ma questa è una slide che vi ho già letto l'altra volta quella bellissima intervista in cui spiega perché passa dalla rappresentazione della vita attraverso la lingua il romanzo eh la letteratura alla rappresentazione della vita attraverso l'immagine il cinema non ve la rileggo perché immagino comunque è qui potete eh raggiucchiarla rapidamente e adesso arriva Fabrizia eh che sviluppa questo tema tenete presente che ci sarà comunque una lezione tutta su Pasolini al cinema della professoressa Parisi però e questa parte verrà ripresa nei nei laboratori di quella eh di quella giornata ma intanto Fabrizia Brandoni vi darà che è una super esperta della 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 dell'incrocio di generi nella didattica a scuolo vi vi darà un primo flash su questo. Sì allora io parlerò cercherò di parlare veramente brevemente di questo passaggio eh un po' appunto perché eh era necessario inserirlo nella non comunque nella restituzione sul Pasolini narratore però è chiaro che si presenta poi come anche invece uno sviluppo a sé qualcosa che poi verrà riapprofondito dalla professoressa Parigi nella lezione sul cinema. Quindi cercherò appunto veramente un po' di scivolare su alcune cose e nel nel mio eh piccolo contributo farò utilizzo di eh filmati e immagini un po' perché appunto mi servono cioè sono funzionali a quello che vorrei cercare di mettere in luce un po' perché come appunto diceva il professor Antonelli e un po' eh sanno le persone che frequentano i laboratori da tanto tempo questo utilizzo diciamo appunto delle delle immagini eh di altri linguaggi oltre quello verbale in questo caso useremo proveremo ad ascoltare anche brevissimamente dei passaggi musicali delle colonne sonore del film eh io credo che possa essere una chiave per provare a spiegare dei concetti che eh diversamente diventa molto complesso poter eh diciamo eh trasferire ai ragazzi per esempio quello che cercherò diciamo di mh provare con voi se 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 ci accordo su questo è che la concezione appunto di con di contaminazione degli stili eh la lezione di Auerbach a cui faceva appunto riferimento prima il professor Antonelli eh diciamo a cui Pasolini arriva proprio nel nel cinquantasei eh diciamo io credo che è è chiaramente una nozione grandissima e difficile che si capisce con il tempo però nella visione dei film e paragonando quello che Pasolini fa nei film rispetto a quello che avviene nei romanzi cioè credo che alcuni elementi possano essere possano arrivare ai ragazzi. Adesso venite la dimostrazione. Sì adesso. Allora diciamo quello che volevo semplicemente dire era appunto diciamo qui eh fatti su scusate su alcune slide cerco di andare molto veloce e appunto allora la la prima diciamo la nel presentare a scuola questo argomento cioè sicuramente un elemento cioè l'elemento iniziale che proverai a mettere in risalto è che il passaggio dalla letteratura al cinema avviene all'interno di un diciamo di una serie di elementi di continuità cioè la domanda di fondo che Pasolini continua a farsi è quella domanda che diceva prima il professor Antonelli c'è una domanda su come rappresentare la realtà e e quindi diciamo che l'osservazione della realtà e di quella realtà specifica che a Pasolini interessa perché la considera la realtà portatrice di vita di vitalismo rimane anche nei primi film di Pasolini e qui diciamo ovvio ha riportato appunto brevisamente questa intervista in cui lui riprende quello che diceva nell'intervista precedente cioè che con il cinema io resto sempre al livello della realtà è una specie di ideologia personale di vitalismo di amore del vivere dentro le cose cioè quindi è come se nel cinema Pasolini riuscisse prima abbiamo letto no quei bellissimi passaggi dei romanzi cioè in cui abbiamo visto il tentativo continuo di Pasolini di dare proprio fisicità a questi personaggi è come quindi se il cinema gli offre il passaggio successivo cioè un linguaggio mimetico che rappresenta i corpi immediatamente infatti non a caso qui vi ho riportato diciamo una un passaggio di un Pasolini diciamo no di dieci anni dopo quindi un Pasolini che ormai ha fatto un passaggio rispetto a tutta una serie di convinzioni che aveva negli anni sessanta cioè lui dice no se io oggi volessi rigirare a cattone non lo potrei fare più perché non esistono più i corpi di quelle persone di quei gruppi sociali che erano diciamo no ciò che per lui era interessante a cui lui aveva dato come dire il compito di essere protagonista della sua ricerca e quindi qui quello che volevo stognare è proprio questa attenzione lui dice nel corpo e non troverai nessuno che riesca a dire con quella voce quelle battute e posso ascoltate vado io scusate e lo faccio io così allora qui diciamo a proposito di questa continuità ho selezionato ma li leggo proprio velocitamente però sono dei passaggi che si possono leggere a scuola anzi appunto alcuni capitoli di ragazzi di vita si possono diciamo io credo anche leggere alla scuola media con delle opportune selezioni alla cui ho selezionato appunto questi due passaggi in cui c'è questa vita sul tevere no diciamo che ritorna questa è un fotogramma di a cattone i ragazzi che guardano a cattone prima che si butti faccia il tuffo e appunto diciamo secondo me un'operazione interessante che si può fare con i ragazzi è leggere questi passaggi no in cui vediamo io leggo soltanto alcune parti dice tutti se ne stavano in piedi con le cianche sporche di fango gli slip appiccicati sulla carne e le facce sarcastiche a guardarsi a gridare i morti perché appunto continuamente adesso vedremo tornerà questo eco degli mortacci tuoi lo diranno a ritmo forzennato tutti quanti i protagonisti di questa scena poi a un certo punto ciccione partì urlò con una risata feroce bassotto ghignava e poi remo appunto a cui diciamo premendosi infuriato un occhio con la mano perché gli arriva il fango nell'occhio e e poi qui di nuovo no si tuffa in acqua raggomitolando si corrugando la fronte lo scudorato l'altro personaggio e poi quest'altra scena che è una scena successiva di quando questo personaggio Marcello vede e zambuia un altro personaggio del romanzo che ha un gruppo di cagnolini con sé lui ne vuole prendere uno gli dice appunto gli chiede secondo me di finta indifferenza Marcello dice me ne dai uno se gli fece lui le tenghi cinque piotte e poi Marcello fa amatto ridendo battendosi due dita contro la fronte cioè quello che volevo mettere in luce qui e che secondo me è interessante mettere in luce con i ragazzi è questa continua questo continuo tentativo attraverso il linguaggio di Pasolini di rendere plasticamente le la gestualità la fisicità di questi personaggi quindi non solo attraverso la riproduzione linguistica ma anche la riproduzione proprio gestuale e qui vabbè c'è questo finissimo filmato che si può paragonare proprio brevissimamente se vogliamo mettere no era prima Roberto il primo proprio filmato però lo devono mettere loro proprio brevissimamente c'è una scena in cui a cattone fa proprio una smorfia con la faccia no che appunto riprendeva un po' quei passaggi che vi avevo letto sì e e quindi quindi vabbè niente questa era un'operazione interessante che si poteva che si che si può fare a scuola e allora non importa tanto me lo ricordo e l'altra diciamo la ecco nella slide successiva avevo riportavo la diciamo la è quella dopo successiva dopo ancora ecco qua diciamo semplicemente questa fonte appunto in cui Pasolini ci racconta del diciamo no esplicitamente che mentre passeggiava con Fellini eh lo ascoltava perché lui ha collaborato appunto alle alla realizzazione delle notti di cabiria ascoltavo con in tasca Auerbach no che come diceva il professore è del 56 e allora io che cosa volevo non dire sempre come è stato detto prima e allora che cosa volevo cioè che cosa secondo me è interessante a questo punto mettere in luce rispetto ad Auerbach cioè che cos'è che il cinema permette a Pasolini di fare che è in continuità piena con diciamo la lezione di Auerbach allora cioè attraverso il cinema Pasolini riesce non solo a diciamo fondere e contaminare i linguaggi ma scusate gli stili ma anche i linguaggi cioè lui riesce a mettere insieme contemporaneamente il linguaggio verbale il linguaggio musicale e il linguaggio iconografico e nel fare questa cosa lui fa degli accompiamenti cioè abbina elementi che provengono dall'alto e dal basso e lo fa appunto il cinema gli permette di fare di rendere l'effetto di questo di questa simultaneità immediatamente allora nelle slide precedenti ho messo diciamo cose che sono abbastanza note perché sono tutti diciamo le come dire la no le le citazioni iconografiche di pontormo rosso fiorentino che ci sono nei suoi film appunto nella ricotta in cui la cosa interessante è che i personaggi che sono chiamati a riprodurre la deposizione la resurrezione sono come poi si vede nel film dei personaggi che appartengono al registro comico sono dei personaggi che dopo aver fatto quelle scene vanno alla mensa delle comparsate a mangiare quindi questo è proprio un elemento di cortocircuito no lui utilizza questi riferimenti alti e i protagonisti che li mettono in scena sono gente del sottoproletariato una cosa secondo me ancora proprio molto interessante è quello che Pasolini fa nelle colonne sonore del film perché di nuovo qui c'è l'avvinamento istantaneo di immagine musica e diciamo vedremo brevissimamente una scena di accattone in cui accattone diciamo come in una scena molto brutale in cui lui va dal figlio per prendergli la collanina che gli serve per comprare un regalo che lui deve fare a stella la donna che ha incontrato quindi fa questo gesto brutto di prendere al figlio un oggetto diciamo viene attaccato dalla dalla ex famiglia e c'è questa scena di lotta e Pasolini su questa scena di lotta brutale diciamo elementare mette la musica di Bach quindi è proprio un elemento di sublime alto basso non so questo poi dovremmo deciderlo insieme però e l'altro diciamo secondo me interessantissimo lavoro che fa sulle colonne sonore è la colonna sonora del Vangelo secondo Matteo perché lui qui mette Bach Mozart Prokofiev che non l'ho riportato scusatemi insieme a musica diciamo che appartiene al registro popolare lo spirituale il gospel e addirittura questo è veramente secondo me una cosa interessante lui inserisce una messa congolese cantata chiaramente in latino nel appunto in una serie di passaggi che adesso proveremo a vedere quindi anche qui c'è continuamente dobbiamo vedere il filmato scusa Roberto ho finito è l'ultima cosa no è questo qui diciamo proviamo a vedere e ascoltarli e a vederli può significare provare appunto a contaminare è sul piano appunto della quello prima Roberto scusami ecco nello spazio urbano perché appunto come come sappiamo tutti no la cioè la borgata è il luogo diciamo in cui Pasolini concentra la sua analisi in questa prima fase della sua ricerca e diciamo insomma la proposta è che rappresentare Roma diciamo in questo modo cioè da una parte continuamente il parco degli acquedotti le rovine romane che si stagliano dove stanno crescendo i diciamo noi le nuove case questo è il quartiere del quadrato nuovo mamma Roma racconta proprio di questo quartiere che si sta formando e rappresentare dentro questo spazio il sottoproletariato che ci si muove e mettere sopra quindi le rovine i casermoni il sottoproletariato la musica di Bach ricrea nuovamente diciamo un cortocircuito grandissimo per cui dimensioni diversissime vengono messe insieme e possiamo vedere il filmato? No il filmato. Sì. Sai che intanto che Pasolini abbia attraverso il cinema ha trovato diciamo il mezzo attraverso cui eh esprimere la sua elaborazione di Auerbach quindi che il cinema arrivi proprio nel momento in cui lui avendo scritto i romanzi avendo letto Auerbach sente che quella forma espressiva può in quel momento no sostituirsi perché poi non sarà così perché Pasolini tornerà alla letteratura e gli da appunto però diciamo quello che io eh farei notare in classe sono sia gli elementi innovativi di questa scelta però anche fortissimamente gli elementi di continuità perché perché come sempre ritengo che comprendendo bene questo si comprende anche il linguaggio verbale dei romanzi cioè mettendo a confronto questi due linguaggi entrambi si capiscono meglio e quindi anche la lettura diciamo no di eh appunto di di testi complessi come come sono i romanzi di Pasolini può diciamo essere accompagnata su questo non dico assolutamente nulla perché diciamo era appunto un accenno su come eh nei film eh Pasolini sempre rispetto all'Auerbach che avete capito ho cercato di far vedere come venga nel cinema utilizzata quella lezione e facesse uso proprio anche della interpretazione figurale su cui non mi soffermo perché diciamo se appunto qualcuno ha visto i film eh o forza la trama no sa che entrambi i personaggi protagonisti andranno incontro alla morte e e appunto non a caso Pasolini nella morte di Ettore in Mamma Roma lo posiziona in una posa che chiaramente richiama alla mente di molti l'iconografia del Cristo morto anche se Pasolini aveva obiettava su questo però è chiaramente un'iconografia diciamo no un'iconografia potremmo dire appunto per cui Ettore potrebbe essere figura di Cristo in Accattone diciamo che eh il film comincia con la citazione di Purgatorio Cinque in cui si parla di quest'anima che viene contesa no Accattone appunto muore alla fine del film in una scena del film Accattone fa un gesto si sporca il viso con il fango che in qualche modo potrebbe essere il ribaltamento di quando nel Purgatorio Virgilio pulisce la faccia di Dante dal fango come a dire che Accattone è un personaggio che da solo non riesce a redimersi però questi erano solo degli elementi diciamo per un discorso che è molto più grande però volevo solo volevo a a a a diciamo ecco accennarlo e per completare un po' questo discorso sul sul diciamo sulla potenza del mezzo espressivo cinematografico. Va bene e allora concludiamo con eh quello che succede dopo eh il cinema diventa ehm l'occasione al di là anche delle in cui si continua a usare uno stile di tipo espressionistico e anche la a livello di dialogo la commistione fra linguaggio alto e linguaggio basso eh e la letteratura diventa la eh la la sceneggiatura in un certo senso per i suoi film con la trilogia della vita cioè la eh The Cameron eh i racconti di Canterbury e eh le mille e una notte eh a questo punto però si rompe qualcosa nella nella rapporto di Pasolini con con il cinema nel senso che la trilogia della vita gli dà un grande successo a livello mondiale anche la eh rappresentazione la la il rapporto fra letteratura eh e cinema diventa eh va verso una convergenza diventa solidale ma in una rappresentazione di gioia di vita in qualche modo no? In tutte in tutte e tre le eh in tutti e tre i film eh a quel punto subentra la crisi finale di Pasolini cioè un rapporto con la società italiana e non solo in cui eh in questo brano che credo di aver citato anche la la lezione precedente in cui eh vedete che e gli spiega il rapporto che c'è fra eh e si tenta di spiegare il senso di Salò ora tenete conto che Salò e Petrolio cioè il grande romanzo incompiuto di Pasolini procedono Petrolio è un lavoro che lo occupa per molti anni ma non è significativo che eh quando muore eh ha appena eh fatto eh Salò e sta lavorando e ritiene ritiene che eh petrolio sia un romanzo in cui egli ha rappresentato una specie di summa di tutte le sue esperienze eh ora che cosa accomuna le due le due il film e il romanzo? Il fatto che partono da un'idea ormai disperata della realtà italiana che trova espressione negli articoli la famosa sparizione delle lucciole vi ricordate? Eh una serie di articoli di fondo che gli pubblica in un periodo speciale il corriere del di evoluzione di quel giornale il corriere della serie che poi saranno raccolti scritti corsari e lettere e lettere luterane è il momento in cui Pasolini acquisisce una dimensione da eh da intellettuale guida l'intellettuale quasi profeta io non ripeto qui le cose già dette l'anno scorso eh a proposito di Pasolini e Dante anche un pochino anche quest'anno ma egli vive sempre di più una sorta di auto identificazione con eh con Dante e eh il momento in cui riprende anche la scrittura eh della eh il rifacimento della commedia con la divina mimesis ehm quindi che cos'è che costituisce l'asse del suo pensiero in questo momento? Il fatto che eh rappresentare ciò che il potere fa del corpo umano la riduzione del corpo umano alla cosa la mercificazione del corpo l'annullamento della personalità degli altri dell'altro con ehm con Salò vuole dare una metafora del potere del rapporto di potere con chi è subordinato al potere e quindi vale in realtà per tutti io detesto soprattutto il potere di oggi eh la eh questa anarchia della società in qualche modo diventa anche anarchia della scrittura del romanzo eh eh su 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 Petrolio si è aperto un enorme dibattito perché fu pubblicato postumo molti anni dopo credo non mi ricordo esattamente ma una quindicina ventina d'anni dopo la morte eh era un romanzo che tutti cercavano e tutti volevano pubblicare che Pasolini era incerto se pubblicare o meno in questa bellissima lettera a Moravia che voi vedete in cui chiede consiglio a Moravia se eh e gli spiega che cos'è questo romanzo è un romanzo ma non è scritto come sono scritti i romanzi io ho messo veri tra parentesi per dire che cosa intendesse Pasolini romanzi veri diciamo ehm la sua lingua è quella che si adopera per la saggistica per certi articoli giornalistici per le recensioni per le lettere private o anche per la poesia vedete una commistione totale rari sono i passi che si possano chiamare narrativi ricordano piuttosto le sceneggiature eh che quelle dei romanzi classici fuori dal mondo della scrittura si possono usare anche addirittura fotografie eh filmati ho reso il romanzo oggetto non solo per il lettore ma anche per me stesso il preto il protagonista di quel romanzo è quello che è esso mi è ripugnante guardate bene che c'è per esplicita ammissione una eh proiezione autobiografica in qualche modo nel protagonista del romanzo ho passato lungo periodo della mia vita in sua compagnia e mi riescirebbe molto difficile ricominciare da copo da capo è il preambolo di un testamento la testimonianza di quel poco di sapere che uno ha accumulato vedete come in questo momento a questa dimensione tutta negativa del mondo e del proprio rapporto con la società italiana eh corrisponda anche in questa come poi in quell'altra intervista che abbiamo letto l'altra volta in cui si pone eh quasi in modo profetico come eh un martire eh anche qui con una sorta di identificazione con Cristo e attraverso Cristo con eh l'auto identificazione che con Cristo fa Dante nella commedia e tutto ciò poi si riversa anche nella struttura del romanzo che potremmo definire un'anarchia strutturale cosa è come si dovrà presentare dice in un in uno dei frammenti a noi pervenuti eh che nella prima edizione badate bene di petrolio non nella seconda eh fatta recentemente da Walter City e da Silvia De Laude eh non è dato come primo come primo testo mentre è molto importante capire eh subito che cosa volesse dire Pasolini tutto petrali tutto petrolio con petrolio tutto petrolio dovrà presentarsi sotto forma di edizione critica di un testo inedito una sorta di satirico moderno a noi pervenuto non intero come sapete di tale testo sopravvivono quattro cinque manoscritti concordanti e discordanti come nella lettera a Moravia con apporto di altri materiali lettere dell'autore lettere di amici testimonianze orali illustrazioni canzonette per riempire poi le vaste lacune del libro quindi un libro pensato sin dall'inizio come lacunoso frammentario e lacunoso cioè deve apparire come non finito incompiuto questo è un fatto fondamentale per capire questo romanzo no? Eh e per capire anche il rapporto testamentario di questo romanzo eh che lui eh enuncia esplicitamente nella lettera a Romanzo a Moravia con documenti tali documenti sono giornalistici testimonianze orali eccetera eccetera tali frammenti saranno disposti in paragrafi ordinati dal curatore cioè distinguendo fra autore e curatore l'autore è il curatore ma si presenta come curatore di un'opera non compiuta il carattere frammentario degli insiemi del libro fa sì per esempio che certi pezzi narrativi siano in sé perfetti ma non si possa capire per esempio se si tratta di fatti reali di sogno di congenture fatti da qualche personaggio ora eh qui si apre un discorso su che cos'è allora questo romanzo che rappresenta la summa secondo Pasolini e che ci è arrivato certamente incompiuto come giustamente dice Roncaglia che ne ha curato da filologo e il famoso curatore previsto da previsto da Pasolini e badate Roncaglia fu è stato anche uno dei personaggi protagonisti di Salò dei i quattro mh le quattro eccellenze che guidano eh staticamente il gioco di Salò dice Roncaglia non c'è dubbio che se Pasolini avesse finito il libro l'insieme sarebbe risultato profondamente diverso e questo è certamente giusto io penso però che il romanzo così come eh ci è pervenuto noi dobbiamo considerarlo attraverso attraverso quel frammento attraverso la lettera Moravia possiamo considerarlo come un libro compiuto nel senso che rappresenta la volontà penultima ma in realtà ultima dell'autore cioè un romanzo che non è un romanzo un romanzo che è frammentario è un romanzo che poi alla fine come abbiamo accennato precedentemente in cui eh da eh la sintesi ultima proprio attraverso quel frammento che ha ricordato quel frammento quella terzina del purgatorio eh sui diavoli che si disputano l'anima che ha ricordato prima Fabrizia eh la stessa cosa avviene in petrolio il protagonista è un certo Carlo eh che muore e sul suo cadavere ci sono un demonio e un angelo che si disputano la proprietà di quell'anima per giungere poi alla conclusione che c'era una parte interiore delle famose viscere di eh la legione del mio tempo eh immonda che si prende il demonio e da quella da quel grumo viscerale nasce immediatamente un bambino che diventa adulto ed è uguale al Carlo morto e la forma del Carlo morto che si prende l'angelo e queste due figure vivranno eh una vita parallela e contemporanea è un'invenzione da un certo punto di vista straordinario e parlante sia del rapporto con Dante che lo attraversa vedete per tutta la vita sia del rapporto di Pasolini con se stesso non che lui volesse rifare Dante che lui è uno dei pochi che ha ragionato sulla commedia come potrebbe come poteva essere eh riscritta riscritta riprodotta nel mondo d'oggi nella grande crisi del mondo attuale che è una crisi che poi investe insieme il personaggio che si sdoppia l'autore che si sdoppia in autore e curatore no e rappresenta questa crisi che noi viviamo ecco a scuola la questione della crisi io credo che sia fondamentale cioè che gli studenti eh eh possano capire che attraverso la letteratura eh alcuni alcuni testi della letteratura ma i grandi testi della letteratura del novecento sia italiana che straniera e questo testo che secondo me è un grande testo eh posso naturalmente è un po' difficile selezionando però si può fare eh si può fare eh possano capire il mondo intorno a loro e con ciò concluderei eh questa voglio aggiungere solo una cosa questa la la famosa scena del quinto canto del purgatorio in cui il l'angelo e il diavolo si contendono l'anima di buonconte da Montefeltro eh è la scena secondo Pasolini in una lettera che scrisse Anna Banti eh è la scena più bella di tutta la divina commedia eh certo la di tutta la divina commedia eh non della cantica ma questo vi spiega innanzitutto e condivideva questo con Moravia cioè entrambi concordavano su questa eh ma questo vi spiega secondo me non è vero però il mio gusto è diverso perché l'intenzione di Moravia e Pasolini era diverso loro leggevano la commedia dal loro punto di vista di creativi di scrittori e quindi per loro questo rappresentava la grande crisi della contemporaneità riflessa in due figure eh dramatis persone che si disputano un un'anima quell'anima che si disputano la in in petrolio vedete come il critico poi a volte ha una visuale anzi sempre ha una visuale diversa da quella del creativo Pasolini era un creativo leggeva la commedia dal suo punto di vista mh e credo che questo a scuola sia possa essere importante soprattutto a scuola la letteratura del novecento se non la si legge tutta la letteratura del novecento sia europea sia anche americana e eh italiana non si legge da questa prospettiva non la si capisce e questo però è importante perché a scuola è sempre molto difficile al liceo trovare una chiave unitaria di interpretazione e di un'altra visto che ancora fa parte del nostro presente che però la proietti su una dimensione anche storica storiografica mh e Pasolini aiuta anche a questo io eh adesso ci sono i laboratori abbiamo chiuso quasi in orario abbiamo sperato di dieci minuti grazie a tutti perché Fabrizia è quella che taglia i tempi non direi io ho cercato mi pare velocissima ha saltato cinque slide con le immagini le potete vedere se taglia i tempi a tutti e che noi dobbiamo a cui dobbiamo sempre all'inizio allora noi vorremmo eh però non si possono fare domande oggi ha detto Fabrizia no ma non è vero non le ho detto io cioè eh l'idea è appunto se no eh diciamo i laboratori diventano nulla inesistenti e quindi c'è una giornata in cui faremo le domande e quindi chi è a casa eh se può segnarsi la domanda perché è chiaro che poi passando del tempo però se potete diciamo gli stimoli che vi vengono in mente e diciamo scriverli da qualche parte e in modo che poi possano essere condivisi il diciannove grazie ecco una notazione che mi ha suggerito Giovanna Santini per chi volesse capire tutto il senso del corso tutto questo è sul sito eh lo potete eh raggiungere è già spiegato nel sito eh così non ci perdiamo tempo oggi possiamo fare i laboratori per tutti quelli che sono venuti qui per fare i laboratori grazie a tutti Grazie a tutti